Benvenuti a questo nuovo video su Azimut, la principale società di gestione del risparmio indipendente in Italia. Oggi parleremo di chi possiede Azimut, come stanno andando i suoi fondi e come potete comprare le sue azioni. Quindi, rimanete sintonizzati fino alla fine per non perdere nessuna informazione importante. Chi possiede Azimut? Azimut è una delle principali società nel settore finanziario, con sede a Milano e operante globalmente in asset management, wealth management, investment banking e finte. La società è guidata da Pietro Giuliani come presidente e altre figure di spicco come Gabriele Blei e Massimo Guiati. Fondata nel 1990, Azimut Holding è oggi una public company con un patrimonio in gestione di 87,7 miliardi di euro e più di 230 mila clienti. Come stanno andando i fondi Azimut? Recentemente, il valore delle azioni di Azimut ha mostrato un andamento in ribasso dell'1,5%, posizionandosi a 21 euro per azione. Il titolo ha raggiunto un massimo di 21,26 euro e un minimo di 20,91 euro durante la giornata. Come comprare azioni Azimut? Se siete interessati ad investire in Azimut, potete farlo attraverso una piattaforma di trading online come Etoro, che offre un conto con un deposito agevolato di soli 200 euro. Perché Azimut perde in borsa? La quota di mercato di Azimut sta registrando un calo, principalmente dovuto a un incremento degli introiti e alla crescita più rapida del settore dei servizi di investimento rispetto alla società stessa. Quali fondi investire nel 2023? Oltre ai fondi Azimut, potreste considerare l'investimento in azioni di grandi aziende come Tesla, Amazon, Apple, Microsoft e Google, a seconda dei vostri obiettivi finanziari e della tolleranza al rischio. Azimut, una panoramica dei servizi Azimut offre una vasta gamma di servizi finanziari, tra cui asset management e wealth management, con una presenza in 18 paesi del mondo. L'azienda si distingue per la sua autonomia e indipendenza, offrendo soluzioni specifiche e altamente efficaci per le esigenze dei clienti. Prodotti assicurativi di Azimut Azimut Life Solutions offre prodotti assicurativi innovativi come AZ Galaxy e AZ Navigator, che combinano i vantaggi dei prodotti finanziari con quelli assicurativi. Azimut Wealth Management Azimut è anche un attore di spicco nel campo del wealth management, offrendo una gamma completa di servizi che coprono diversi aspetti della gestione della ricchezza e del patrimonio. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito web di Azimut o a consultare un consulente finanziario per una guida personalizzata. E questo è tutto per oggi. Se avete trovato questo video utile, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per altri contenuti informativi. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video, ora sei pronto per fare una scelta informata. Iscriviti al nostro canale YouTube o passa su ipestiti.online